marley era morto tanto per cominciare nessun dubbio su questo il registro mortuario portava le firme del prete dell'impiegato del becchino e della persona che aveva seguito il morto scruggio era firmato ed il nome di scruggio aveva un valore in borsa su qualsiasi cosa egli decidesse di metterci le mani il vecchio marley era morto come recitava il detto come un chiodo da porta attenzione non voglio lasciare intendere che io sappia per conoscenza personale che cosa vi sia di particolarmente morto in un chiodo da porta per conto mio sarei stato propenso a pensare che fosse un chiodo da bara il pezzo di ferramenta più morto sul mercato ma poiché la saggezza dei nostri antenati sta nelle similitudini le mie mani profane non la disturberanno o il paese andrebbe in rovina lasciatemi dunque mi permetterete quindi di ripetere solennemente che marley era morto come un chiodo da porta scruggio sapeva che era morto naturalmente lo era come poteva essere altrimenti lui e scruggio erano stati soci per non so quanti anni scruggio è il suo unico esecutore testamentario unico amministratore unico assegnatario unico erede universale unico amico ed unico partecipante al lutto neppure scruggio era stato terribilmente spezzato dal triste evento e siccome era un eccellente uomo d'affari nel giorno stesso del funerale lo celebrò con un ottimo affare buon natale ragazzi col canto di natale di Charles Dickens iscritti